Musica E ben ritrovati con l'informazione di TRMH24. Quest'oggi la cronaca in primo piano, andiamo subito a Monopoli dove due operai hanno perso la vita in un cantiere. Sarebbero, secondo le prime ricostruzioni, stati schiacciati dalle macerie sul posto lì. Per noi c'è il collega Saverio Carlucci che ci racconta quanto sta accadendo. A te Saverio. Esattamente Cristina, queste sono le prime informazioni che siamo riusciti a confermare. Noi ci troviamo sul posto, nello specifico in una palazzina antistante al cantiere, dove questa mattina si è verificato l'incidente che è risultato mortale per due operai. Stando a quello che si è preso, entrambi avrebbero più di 60 anni, 62 e 64 nello specifico. Le dinamiche dell'incidente chiaramente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Come avete visto sono in corso proprio in questo momento i rilievi sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'ispettorato del lavoro. Stanno ascoltando le persone che erano presenti sul cantiere al momento dell'incidente per tentare di ricostruire quella che è stata la dinamica dei fatti. Stando a quello che si è preso, entrambi gli operai erano originari della provincia di Bari, di Conversano. Come potete vedere dalle immagini che ci sta restituendo il nostro operatore Roberto Montemuro, Proprio in questo momento sono in corso i rilievi nonché anche le operazioni di recupero. Stando a quello che si è preso, i due erano al lavoro su una conduttura, quindi a un livello interrato del cantiere quando si sarebbe verificato uno smottamento o una frana del terreno che è poi risultata fatale. Al momento questa è la situazione che siamo riusciti a ricostruire, Cristina. Grazie Saverio Carlucci. Ovviamente torneremo ad occuparci dell'argomento nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. E nel frattempo, proprio pochi minuti dopo l'incidente, è stato diffuso un nuovo monitoraggio dello spesa dell'ASL di Bari. Nel barese il 20% delle aziende non è in regola. Aumentano gli incidenti sui luoghi di lavoro. Vediamo. Il nuovo incidente sul lavoro, verificatosi alle porte di Monopoli nel barese, riaccende ancora una volta la questione sicurezza sul lavoro da parte degli organi competenti e sindacati. Nelle scorse ore la spesa dell'ASL Bari ha diffuso il monitoraggio relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ben il 20% delle aziende non è ancora in regola. Una realtà che va quindi a pesare inevitabilmente sulla sicurezza degli operai che rischiano la loro vita lavorando. Tra le violazioni accertate nel monitoraggio effettuato da metà marzo a fine aprile 2022 emergono tra tutti il malfunzionamento dei macchinari, elemento di grande rischio per i lavoratori. Il dato diffuso dallo Spesal fa riferimento al piano di prevenzione 2022 dal titolo L'alternanza alternativa che ha permesso al servizio dell'ASL di Bari di raggiungere e soprattutto di verificare 70 aziende distribuite sul territorio appartenenti a 7 differenti comparti produttivi in aggiunta a quelle già previste nella normale attività di vigilanza. I controlli hanno riguardato la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle procedure ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori e in particolare degli studenti che svolgono, anche se per breve tempo, il periodo di formazione sul campo ospitanti in aziende del territorio. Traffico di reperti archeologici con base a Canosa di Puglia, a 16 le persone arrestate e recuperati oltre 3.600 manufatti dal valore inestimabile. Prende il nome di Canusium l'indagine che ha coinvolto 51 persone e ha portato all'esecuzione di 21 provvedimenti cautelari, di cui 16 arresti e 5 oblinghi di dimora, per associazione a delinquere con base operativa a Canosa di Puglia, finalizzata allo scavo clandestino, al furto, alla ricettazione e all'esportazione illecita di reperti archeologici e numismatici. Secondo le indagini, il gruppo aveva dei tombaroli che si occupavano di scavi illeciti e dei ricettatori che, grazie alle conoscenze di alcuni trafficanti di reperti archeologici, rivendevano vasi e monete sui mercati clandestini internazionali e nazionali. Gli indagati avrebbero così messo in piedi un remunerativo commercio di manufatti archeologici che dalla Puglia e la Campania raggiungevano varie parti del mondo attraverso le case d'asta estere. Nel corso dell'attività investigativa sono state recuperate e sequestrate diverse migliaia di reperti archeologici, tra ceramiche e monete in oro, argento e bronzo, 60 tra metal detector e arnesi utili allo scavo clandestino, oltre a documentazione contabile relativa alle transazioni illecite in Italia e con l'estero. Sono inoltre una cinquantina le perquisizioni seguiti in più comuni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Puglia. Il territorio di Canosa è un territorio ricchissimo, ma estremamente vulnerabile. A livello nazionale non c'è la piena consapevolezza di quello che Canosa rappresenta dal punto di vista storico, dal punto di vista archeologico. E il fatto che sia necessario difenderlo in questa maniera, in qualche modo lo dimostra. Se anche solo ci fermassimo agli oltre 3600 reperti acquisiti nel corso delle indagini, senza considerare le diverse centinaia, e temo di dover dire alcune migliaia, che sono state reperite oggi con le perquisizioni, se anche ci fermassimo a questo credo che potremmo dire che è un grande risultato. Il valore dei reperti, come dicevano i miei collaboratori, è un valore di mercato. Considerate che dal punto di vista dell'identità culturale del nostro Paese, io li ritengo incommensurabili. Siamo ancora raccogliendo i dati di quanto recuperato fino ad oggi durante le perquisizioni odierne, ma siamo sempre nell'ordine di svariate decine di milioni di euro. Due carabinieri hanno riportato lesioni lievi dopo che la loro vettura è stata speronata da quella di una banda di ladri che stava cercando di rubare un'autovettura spingendola con un SUV. È accaduto ieri sera a Binetto, nel Barese. I malviventi, accortisi della presenza dei militari, hanno tentato di investirli e sono poi fuggiti. Poco dopo, nel corso dell'inseguimento, per evitare di essere bloccati, i ladri hanno nuovamente diretto la propria autovettura contro il mezzo dell'arma, danneggiandolo gravemente dopo aver colpito un'altra autovettura in corsa. In sosta sono finiti contro il muro di un'abitazione, quindi sono fuggiti a piedi. I militari non hanno riportato lesioni gravi e sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Le auto della banda sono state sequestrate all'interno. C'erano numerosi attrezzi per lo smontaggio dei veicoli e un jammer. Cambiamo argomento, ci occupiamo ora di politica. Affitta di impegni la campagna elettorale a Brindisi in queste ultime giornate, prima del ballottaggio, la sfida è tra Marchionna e Fusco. Ultimi giorni di campagna elettorale a Brindisi in vista della sfida a due tra Giuseppe Marchionna, candidato di centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, e Roberto Fusco per il centrosinistra, espressione del Movimento 5 Stelle, sostenuto anche dal PD. Sono arrivati al ballottaggio con 10 punti percentuali di stacco al primo turno, chiuso con il 44% per Marchionna e il 33,3% per Fusco. Ecco la loro visione di Brindisi per il quinquennio qualora fossero eletti. Noi immaginiamo una città distintiva, originale, che fondando la sua ambizione sulla grande dotazione infrastrutturale di cui godiamo e dell'ampiezza della zona industriale, una costa nord tutta da sfruttare, immaginiamo possa diventare una città attrattiva di investimenti in tutti i settori, da quelli dell'innovazione tecnologica a quelli della transizione ecologica fino a diventare un punto di riferimento per lo sviluppo di un turismo di alta gamma per la quale intendiamo ipotizzare il coinvolgimento dei grandi player del settore. Riportare questa città al suo rapporto con il porto, col turismo, anche con l'agricoltura che era molto famosa Brindisi per questo e poi unendo a questo la bellissima infrastrutturazione che abbiamo con l'aeroporto, con le navi da crociera, con anche e possono essere compatibili con interventi e investimenti importanti nella zona industriale perché oggi gli investimenti sono tutti ecocompatibili, devono rispettare le norme di legge che sul punto sono estremamente rigorose. Il presidente dell'Aggiunta regionale della Basilicata Vito Bardi ha firmato un decreto con il quale attribuisce ad Alessandro Galella la delega alle politiche agricole e forestali. Contestualmente Michele Casino è stato indicato quale componente dell'Aggiunta regionale in qualità di assessore alle attività produttive, al lavoro, allo sport e alla formazione. Voltiamo ancora a pagina. Nel lavoro Stellantis ieri l'attivo della Wilma Melfi chiesta chiarezza sui modi della transizione. Chiarezza sui tempi e sui modi degli investimenti per il passaggio all'elettrico e sulla realizzazione dell'accordo del 25 giugno 2021. È quanto ha chiesto l'attivo dei delegati Wilma di Stellantis riunitosi nelle scorse ore a Melfi alla presenza del segretario nazionale Wilma Gianluca Ficco, del segretario generale Wilma Basilicata Marco Lomio e del segretario generale Wilma Basilicata Vincenzo Tortorelli. Per la Wilma è stato detto l'accordo il punto di partenza nella strada della riconversione. Per questo rivendichiamo l'assegnazione di un nuovo modello di auto per Melfi. È stato sottolineato che si aggiunga ai quattro già stabiliti perché si tutelino gli attuali livelli occupazionali e il passaggio all'elettrico sia un'opportunità. Tortorelli ha chiesto al governatore Lucano Bardi una convocazione per spiegare come intende gestire la fase che segue la dichiarazione di grave crisi industriale. Noi stiamo chiedendo con forza un'attenzione importante sullo stabilimento più importante del nostro paese del mezzogiorno. Lo stabilimento che sarà attraversato da un processo della transizione energetica con un piano industriale che prevede la produzione di modelli full hybrid e la Wil sta chiedendo alcune cose partendo da un primo aspetto creare le condizioni perché a Melfi oltre i quattro modelli già previsti nel piano industriale si aggiunga un altro modello. Questo per garantire i volumi diciamo importanti ma nello stesso momento chiediamo chiarezza anche sulle prospettive occupazionali dei lavoratori del Stellantis e dell'Indotto. Chiediamo al presidente Bardi di convocare un tavolo sull'automotive. Avremmo gradito che ci fosse stata una convocazione prima che andava a sedersi al tavolo a Bruxelles anche per fare il punto della situazione ma questa è stata un'altra occasione mancata. Ancora Matera il ricordo della strage di Capaci nella villa dell'Unità d'Italia. Anche Matera ieri ha ricordato nella villa comunale Unità d'Italia la strage di Capaci a 31 anni della tragedia in cui persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. 23 i feriti. Un segno indelebile nella memoria e nella coscienza di tutti rispetto alle ferettezze del fenomeno mafioso, una giornata che al contempo ci ricorda però il coraggio che non teme nessuna forma di prevaricazione. Qualche settimana dopo in una strage di pari violenza perse la vita anche il collega di Falcone Paolo Borsellino, emblematiche le sue parole «Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una sola volta». L'evento è stato organizzato dall'assessore alle politiche giovanili del comune di Matera, Angela Mazzone, con la partecipazione delle consulte giovanili comunali e provinciali. Quell'esplosione ha segnato il destino del giudice Falcone ma ha anche creato una breccia nel muro dell'omertà perché la gente ha preso il coraggio di esporre l'enzuola dai balconi, di iniziare a parlare, di iniziare a denunciare. Molti capi di Cosa Nostra a seguito di queste denunce sono stati arrestati. Oggi il popolo siciliano denuncia chi va a ricattare, chi va a chiedere il pizzo. Torniamo in Puglia, la città che vorrei. Il titolo di una serie di iniziative culturali e di inclusione sociale proposte a Foggia contro l'illegalità e contro la mafia. Fondamentale è contrapporre una coscienza civile consapevole isolando chi nega l'esistenza della mafia incapitanata. Foggia può ripartire dalla proposta culturale, dall'arte e dalla coscienza delle persone per bene, in particolare dei giovani. L'Università del Capologo Dauno ci crede e presenta la città che vorrei, una bussola per la legalità, con una serie di iniziative che coinvolgono anche le scuole. Il compito dell'Università non è solo cercare di aiutare i ragazzi a prendere un titolo di studio che potrà aiutare la professione, ma anche aiutare a formare la loro coscienza. Sta preparando un piatto per chi verrà dopo di lei o la sua idea è Foggia può riprendersi? Non mi interessa di cosa sarà della politica. Della politica la guardo con rispetto ma con distacco. Sto preparando, sto attovagliando il tavolo da pranzo. Le arti e il pensiero per arginare la violenza in Capitanata, consolidando le interrelazioni con il tessuto sociale e istituzionale cittadino, isolando chi nega i fenomeni mafiosi in Capitanata, chi li mette in dubbio, isolando le commistioni con l'economia e l'editoria. Che a Foggia ci sia la mafia, a mio avviso è innegabile. Lo dicono numerose sentenze passate in giudicato, che si riferiscono alla criminalità foggiana, a quella garganica, a quella del basso Tavoliere. Che la mafia a Foggia continua ad operare, a sparare, ad uccidere, è altrettanto innegabile. Ho dovuto reagire istituzionalmente a chi la mafia la lega, ovviamente nel rispetto assoluto delle posizioni di un uomo, ma perché legare la mafia significa bruciare tanta strada che abbiamo fatto per creare la consapevolezza dell'esistenza della mafia, anche sul piano giudizia. A Rutigliano, nel Barese, è stato presentato il progetto Mio Oriento per rafforzare i servizi per il lavoro. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Nel progetto sono previste tre macroattività, quindi Orientation Desk, che è uno sportello vero e proprio di orientamento al lavoro. Poi abbiamo gli Orientation Labs, sono 300 ore di laboratori esperienziali che colpiranno più target. E poi ci sono gli Job Days, intesi come workshop, seminari, in cui si parlerà di lavoro, con relatori comunque importanti. Sono le principali attività del progetto Mio Oriento, presentato a Rutigliano, nel Barese. L'obiettivo è quello di creare reti che rafforzino i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio. Il progetto si rivolge soprattutto ai giovanissimi e a quanti si avvicinano al mondo del lavoro e mira a garantire un ricambio generazionale nelle attività tipiche del territorio, come l'arte figulina e l'agricoltura. È bello ancora una volta vedere questa rete che si è creata tra scuole, partner pubblici, partner privati e associazioni del territorio che collaborano insieme in un momento difficile e particolare per garantire nuove opportunità di lavoro. L'altro aspetto importante è che si tratta di opportunità di lavoro, parliamo di lavoro, parliamo di professioni legate al territorio. Quindi parliamo di agricoltura, partiamo di artigionato locale, in modo particolare di arte figula, un'arte che purtroppo a causa del momento vissuto, quindi pandemia e crisi energetica, sta diciamo un po' scomparendo. Torniamo a Matera. Per la Cava del Sole arriva la Vinca dopo il servizio trasmesso da Striscialla Notizia. Restano ancora da analizzare nel merito alcuni aspetti tecnici del documento. L'ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata, con determina datata 23 maggio, ha espresso parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale per la fruibilità di Cava del Sole e David Sassoli in eventi di pubblico spettacolo. Il documento ufficiale è arrivato a distanza di poco tempo dal servizio trasmesso dalla trasmissione Mediaset Striscia la Notizia, in cui l'inviato Pinuccio sottolinea come la vendita dei biglietti per alcuni concerti programmati nel periodo estivo sia avvenuta prima dell'ottenimento della vinca, scaduta il 13 marzo scorso. Un rinnovo atteso dato per certo in base a quelle che lo stesso sindaco Bennardi ha definito come interlocuzioni positive fra Regione e Comune. L'autorizzazione dal Comune di Matera è stata chiesta il 12 aprile scorso e dopo una laboriosa fase istruttoria è stata rilasciata, dando particolare importanza alla questione. Lo ha detto intervenendo su TRM Network, l'assessore regionale all'ambiente Cosimo Latronico. Restano però da analizzare nel merito le singole disposizioni che l'attuale vinca impone per la Cava del Sole, che meritano particolari accorgimenti, specie sul piano tecnico, per l'organizzazione di eventi di pubblico spettacolo. Intanto dal Comune fanno sapere che la cifra per rimettere in esercizio la cava tra modernamento e riqualificazione dell'impiantistica elettrica e idrica, predisposizione del collegamento Internet utile al servizio di biglietteria e antincendio, non supererà i 40.000 euro, a cui si aggiunge un secondo capitolo di non oltre 70.000 euro per il riallestimento con riqualificazione del palco, il ripristino del muro interno crollato e l'allargamento della rampa per consentire l'accesso autonomo alle persone con disabilità ospitate su di un palchetto realizzato per loro. Dalle nuove energie all'efficientamento del territorio, dalla sostenibilità ambientale a quella economica e sociale. Questi temi al centro delle tre tavole rotonde, svoltesi al Politecnico di Bari nell'ambito del Bioeconomy Day. I temi affrontati sono quanto mai sensibili e attuali nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A Bari ben tre tavole rotonde affrontano la partnership tra pubblico e privato per lo sviluppo del territorio, l'efficientamento attraverso le nuove forme di energia e i nuovi obiettivi per la sostenibilità e il clima in campo industriale. E il Bioeconomy Day, giornata di ritrovo e confronto sulla rete e sul sistema territoriale tra modelli e processi di inclusione, svoltosi nella Olamagna del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Bari. Questa è una giornata importante perché per prima cosa per fare transizione ecologica bisogna fare rete. Ci vuole una giornata di studio, ma non solo questo. In seguito ci vuole una norma, una legge sulla bioeconomia, un qualcosa che dia un supporto alle start-up, alle innovazioni, quindi a tutto quello che ci può portare dall'altra parte. Le nuove generazioni, il ruolo è importantissimo. Io dico loro sono la nostra risorsa prioritaria. Dobbiamo formarli, prima di tutto dal punto di vista culturale, veramente che cos'è la vera sostenibilità. E poi dal punto di vista tecnico, perché loro potranno veramente lavorare, essere i green manager del domani. Ci sono tantissimi studenti, anche dei nostri corsi di Politecnico, sono molto importanti, è molto importante la loro presenza, molto importante che siano stimolati a capire che quello è il loro futuro. Stiamo passando da un vecchio modo di concepire l'economia e forse anche lo sviluppo della società, a un mondo nuovo, fatto anche di risorse rinnovabili, soprattutto risorse rinnovabili. Questo è effettivamente un challenge importante. Un evento di cui è partner acquedotto pugliese e che è pensato per diffondere tra vecchie e nuove generazioni e tra tutti gli attori coinvolti nella rete la cultura della sostenibilità intesa nelle sue tre forme, economica, ambientale e sociale. Noi abbiamo una vocazione verso la sostenibilità in generale. Abbiamo fatto un piano per la sostenibilità in 79 punti e li stiamo tutti perseguendo progressivamente. Quindi ACUPI è sul pezzo, ha tutto l'interesse di continuare a governare queste cose nell'interesse generale della popolazione pugliese che sostiene ACUPI perché non dimentichiamo che noi siamo in un mercato praticamente monopolistico. Abbiamo questo vantaggio competitivo ma dobbiamo sempre provvedere con grande attenzione ai cittadini ad abbassare i costi. È stato presentato nel campus di Macchia Romana dell'Unibas In questa potenza il nuovo corso di laurea abilitante in farmacia che dal prossimo anno accademico permetterà 100 matricole di conseguire direttamente al termine del percorso di studi l'abilitazione alla professione. L'offerta didattica dell'Unibas si arricchisce di un nuovo tassello. Infatti al corso già esistente in farmacia dall'anno accademico 2023-2024 si aggiungerà il corso di laurea magistrale a ciclo unico abilitante in farmacia. La novità offerta dal nuovo progetto didattico è che i laureati avranno la possibilità di ottenere l'abilitazione professionale contestualmente al conseguimento del titolo di studi senza in sintesi dover superare un esame di abilitazione alla professione di farmacista. Il nuovo corso offrirà agli studenti inoltre l'occasione di scelta tra diversi insegnamenti con profili differenti a seconda delle preferenze degli stessi. Il risultato, assicurano dall'Unibas, sarà quello di formare farmacisti esperti e preparati non solo al corretto uso dei medicinali ma anche su nozioni gestionali di marketing e sul nuovo ruolo del Servizio Sanitario Nazionale. C'è stato tantissimo lavoro per adeguare il corso di studi del precedente ordinamento all'attuale e naturalmente c'è stato quindi un lavoro che è stato realizzato da una commissione nominata ad hoc all'interno del corso di studi in farmacia. L'azione lucana ha richiesto fortemente che l'Università degli Studi della Basilicata rivolgesse attenzione a questo tipo di competenze e anche qui con grande fatica ma anche con grande entusiasmo stiamo lavorando in questa direzione. Da quando è nata la facoltà di farmacia prima e il corso di studi poi i laureati hanno trovato lavoro pressoché immediatamente. Ad oggi viviamo un momento storico anche dovuto all'emergenza pandemica che ancora stiamo in qualche maniera vivendo all'interno delle nostre società come cambiamento culturale di forte richiesta e forte necessità di personale sanitario in particolar modo medici senz'altro ma anche farmacisti. A Taranto è stata invece inaugurata la nuova sede dell'Università Telematica degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Inaugurato a Taranto è il nuovo polo didattico dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. L'Università Telematica sarà ospitata nella sede della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti che ha già l'attivo partnership con le più qualificate espressioni nel mondo della cultura e dell'istruzione a livello nazionale ed internazionale. Per noi oggi è una grande festa essere riconosciuti come polo Unitelma Sapienza. L'Unitelma Sapienza è una tra le eccellenze universitarie italiane telematiche e a noi attribuisce quel valore aggiunto alla nostra formazione perché il nostro obiettivo è formare qualità. L'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è una delle 11 università telematiche autorizzate dal Ministero delle Università e della Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Pensiamo di poter dare un piccolo contributo proprio nel far sì che i giovani di questa città rimangano sul territorio e siano i protagonisti del futuro proprio per questa città che è una città veramente bella e che penso che nel futuro avrà sempre maggiori soddisfazioni. Abbiamo bisogno di far sì che questa città diventi sempre più una città universitaria, sempre più accogliente per loro e che i ragazzi possano respirare l'aria dell'università come l'abbiamo respirata noi che siamo stati costretti purtroppo ad andare via da qui a perdere, allontanarci dagli affetti, dalle famiglie, dagli amici che si sono dispersi in tutta Italia. Ecco, questo non deve più accadere, i ragazzi devono restare qui e soprattutto devono darci una mano perché loro sono il futuro di questa città, noi contiamo su di loro, hanno una grande responsabilità ma noi abbiamo una grande responsabilità di mettere nelle loro mani gli strumenti necessari per poter proseguire il loro percorso nella nostra città. Un percorso di studio per partecipare alla storica Parata dei Turchi che si svolgerà a potenza in occasione delle festività di San Gerardo. I protagonisti sono gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi che muniti di chiarine e tamburini spileranno il prossimo 29 maggio per le vie della città. Come rendere concreto un progetto di trasferimento delle tradizioni e di accrescimento dei valori propri di un territorio se non partendo dai giovani? Ed è stata questa la sfida accolta e vinta dai docenti e dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Potenza che, dallo scorso anno, continuano il percorso didattico che porta alcuni giovani studenti a contribuire alla storica Parata dei Turchi. Sì, siamo molto contenti di questa partecipazione perché vede i ragazzi protagonisti della loro città e quindi parte attiva di una delle manifestazioni più importanti per Potenza che è appunto la storica Parata dei Turchi. La cultura passa innanzitutto dai giovani. Parliamo tantissimo e da tanti anni di destacionalizzazione della storica Parata dei Turchi. Ecco, questo è un esempio preciso di come si fa. L'idea era proprio quella di, come posso dire, di iniziare un percorso con questa partecipazione alla Parata Storica dei Turchi e quindi di contribuire in qualche modo a un senso di appartenenza sia della scuola ma dei ragazzi in particolare. Ci siamo preparati anche con i tamburi, abbiamo reso l'attrezzatura per prepararci, ci siamo esercitati varie volte sia con le chiarine sia da sole, siamo scesi anche giù dal cortile della scuola e abbiamo fatto delle simulazioni come se fossero i turchi proprio. Andare, diciamo, durante la Parata con un gruppo di chiarine nato a Potenza ha qualcosa di storico perché non è stato mai realizzato. E proprio a partire dalle scuole è la cosa più bella che forse, diciamo, è la vetrina dove meglio si sposa il tutto. Ora lo sport. Andrea ha accolto con affetto Francesco Fortunato, medaglia d'oro conquistata il 21 maggio scorso a Podebradi, in Repubblica Ceca, nella 20 chilometri del campionato europeo a squadre di marcia. Il giovane atleta andriese, 28 anni, è stato accolto al Palazzo di Città dal sindaco e da tutta l'amministrazione. Il marciatore ha centrato il suo primo importante risultato in ambito internazionale, vincendo la gara in un'ora, 18 minuti e 59 secondi. Nuovo primato personale migliorato di 44 secondi e miglior prestazione continentale stagionale. Ed è tutto con questa notizia. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito.